E' il momento di un'ultima ora che riguarda l'aeroporto di Ciampino, lo leggiamo su Avionews, che rimarrà chiuso da domani alle 18 fino alle 20.30 del 29 novembre per lavori di manutenzione della pista di volo dello Scalo. I voli verranno alcuni cancellati, altri dirottati su Fiumicino. E questo è tutto, noi ci rivediamo 10 minuti dopo la mezzanotte dal telegiornale regionale del Lazio. Una buona serata.